Un camion carico di generi alimentari dal Valdarno alla volta dell'Ucraina. Si tratta di un'iniziativa di solidarietà della misericordia di San Giovanni Valdarno e di Cavriglia, una raccolta che si è concretizzata anche grazie alle donazioni di privati e di un'azienda dolciaria del territorio. Ancora una volta il grande cuore dei valdarnesi e anche dei volontari della misericordia di Cavriglia ha fatto sì che si potesse raccogliere un certo quantitativo di materiale, farmaci, vestiario e anche derrata alimentare non deperibili. Il tir è già partito alla volta dell'Ucraina. La prima tappa sarà in Polonia e poi andranno in Ucraina a Leopoli, a Kiev e poi sempre all'ospedale pediatrico di Leopoli per i malati di fibrosi cistica. Una parte in Polonia andrà all'hotel Partners di Lović dove stanno i bambini con le loro mamme profughi dall'Ucraina. La misericordia si è già attivata anche per una nuova missione umanitaria a favore delle popolazioni turche e siriane colpite dal sisma diventando così sempre più punto di riferimento per i cittadini. Ormai siamo un punto di riferimento e ci cercano per poter donare, noi cerchiamo dove poter mandare questa roba.